Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 9 febbraio. Quali sono i temi della giornata? Il tema più noioso della giornata, anche se ovviamente di cronaca, è la questione della tensione, come titolo in tutti i giornali, a macerata, dove sono successe due cose, inutile che forse ve le ripeta per filo e per segno. La prima è stata l'uccisione Barbara di Pamela, sulla quale i giornali oggi ancora non sanno dare una risposta se è stato un omicidio o è stata la vendita di una dose di eroina che l'ha fatta morire per overdose. In realtà comunque anche la vendita di eroina è un omicidio, se poi dopo la persona muore. Ma l'autopsia, il medico dice, sono scioccato da questa autopsia durata 5 ore. Devo dire la verità che la morte di questa ragazza sezionata è una morte incredibile, ma i medici forse potrebbero un pochino tacere, perché immagino che ne abbiano viste di tutti i colori. Cioè non aumenterei, diciamo, shock allo shock. È evidente che se una donna viene sezionata e il cui cadale viene sezionato e messo in due valigie diverse si tratta di una cosa orribile. Magari stiamo un po' più tranquilli a fare dichiarazioni, medici, avvocati che dicevano che sentivano le orme di Salvini o medici che al contrario dicono che sono scioccati per la brutalità o per la precisione con la quale è stata sezionata questa donna. Zitti, zitti, fate il vostro mestiere, no? E nel frattempo ci pensano i politici a far casino, perché la sinistra si divide sulla manifestazione antifascista. Pensate un po', voi se dobbiamo pensare alle manifestazioni contro il razzismo e antifascista dopo che avviene una cosa di questo tipo in una città. Ma state buoni, ma che cacchio, cosa serve una manifestazione antifascista? Così come che cosa serve una manifestazione neofascista in una città che ha visto un pazzo neofascista sparare a sei persone che sono innocenti, innocenti fino a prova contraria a questa persona a cui ha sparato. Cioè se ci fosse stata la legittima difesa quando entra una persona in caso e prova a rapinarmi, beh, insomma, si discute se c'è l'eccesso di legittima difesa. Qua, semplicemente, uno ha preso e ha sparato sei persone che avevano solo il problema diere e la pelle nera per strada. Quindi qua, poche manifestazioni, ridicoli, ipocriti, destra e sinistra, zitti e buoni, cerchiamo di risolvere i problemi. Io ne trovo una cosa incredibile, questa retorica delle manifestazioni. Andiamo avanti sulle altre grandi cose che a me oggi mi hanno affascinato. E' il fondo dell'avvenire, il giornale dei vescovi italiani. Il fondo dell'avvenire è i dazzi come si deve. Giuro, giuro. Allora, l'avvenire, il giornale dei vescovi italiani, che probabilmente di economia capiscono quanto io capisco, di teologia, ci spiegano che i dazzi sono necessari in un paio di occasioni per rispettare la dignità degli uomini sul lavoro e per rispettare l'ambiente. Quindi è necessario mettere dei dazzi e quindi sono giusti i dazzi europei. Allora, io voglio chiedere una cosa ai nostri amici vescovi che pontificano contro Trump, contro Salvini, contro la destra dei dazzi. Se la mette l'Europa, c'è un burocrate non eletto, loro sono il massimo. C'è proprio i cattolici, proprio i vescovi che dovrebbero attribuire alle sapienze temporali la loro fallibilità. Invece, per i cattolici di avvenire, i burocrati europei che mettono i dazzi sono Dio in terra. Io la considero una bestemmia per un cattolico. Pensare, scrivere e avere questo retropensiero che hanno gli economisti, che vanno oggi di moda in quello che è il fantastico ritratto del catto comunismo, che è trapassato dagli anni 70 direttamente nel 21esimo secolo. L'avvenire. Il manifesto non esiste più, parlo ovviamente di Macerata, Repubblica è diventato il partito di Renzi, il fatto, come oggi si vede con un pezzo di travaglio, è il partito anticavaliere Progrillini, il vero grande giornale catto comunista che vi fa avvenire il sangue al cervello, si chiama l'avvenire. Quindi i dazzi vanno bene se lo fanno i burocrati Dio in terra che capiscono e decidono meglio di tutti noi, ma se invece li propongono Salvini e Trump, che secondo me sbagliano anche Salvini e Trump, allora a quel punto sono il diavolo. Fantastica è l'idea dell'economia che hanno i nostri favolosi vescovi italiani e il loro giornale catto comunista. Bertolaso è stato assolto, va bene? Oggi scrive una lettera fantastica, secondo me, sul tempo di Gianmarco Chiocci, ricordano l'assoluzione di Bertolaso dopo otto anni di processo. Il fatto, Repubblica, giornale e messaggero tra i grandi giornali in prima pagina. Il Corriere della Sera non gli regna neanche una riga in prima pagina, il Sole 24 ore neanche una riga. Sono i giornali che gli hanno fatto un culo così a Bertolaso, neanche la stampa, mi sembra che metta una prima pagina una riga a Bertolaso. Gli hanno fatto un mazzo così, lo hanno distrutto. L'uomo che aveva creato la protezione civile, una delle poche cose efficienti in Italia, distrutto da due inchieste. Una per omicidio colposo, assolto per non aver commesso il fatto assoluzione prena. La seconda, ieri, da parte dei magistrati di Roma, anche quella di ieri era Grandi Eventi, il G8 di Maddalena dove c'era la cricca. Dicevano il sistema gelatinoso. Ve lo ricordate il sistema gelatinoso? Tutte le pagine di tutti i giornali, la foto di Bertolaso. Abbiamo fatto paginate di, non io ovviamente, pettegolezzi sulla massaggiatrice di Pettolaso. Bertolaso girava come un paria, uno che era diventato ricco, un puttaniere, uno incapace di fare nulla. Bene, assolto, in formula piena, dopo otto anni. Chi gli restituisce questi otto anni? Ma a me porta poco in questo caso a Bertolaso, mi porta per noi italiani. Chi restituisce agli italiani la protezione civile di Bertolaso che i terremoti, le inondazioni, i grandi eventi li sapeva fare, mentre noi abbiamo visto come cazzo abbiamo ridotto le città terremotate dopo un anno ancora non hanno risollevato un problema. Oggi fanno un avviso di garanzia a quel poveraccio di Pirozzi per omicidio colposo perché è caduto una palazzina. Ragazzi, va bene, omicidio colposo a Pirozzi. Dopo otto anni è la realtà e non sono i magistrati colpevoli. Perché i magistrati indagano e ci sono dei giudici, come dice Bertolaso oggi nella sua lettera del tempo, che lo assolvono. I colpevoli siamo noi giornalisti che prendiamo l'accusa e non ragioniamo. Abbiamo tutti sparato contro Bertolaso. Siamo una categoria di pecoroni giustizialisti. Lo dico per tutti, tranne che per il giornale. Va bene in questo caso? Tranne per il giornale. Oggi vi leggete Travaglio e vi rifate un po' la bocca perché Travaglio è quello che oggi riesce a scrivere in 80 righe così out of the blue, cioè fuori da ogni contesto, ricorda che Berlusconi è un mafioso, un delinquente, un omicida, un evasore fiscale, le leggi a persona, ma non ce n'è una che non l'ha fatta Berlusconi. Il male assoluto. Vi leggo soltanto un passo. Nel 1974 stringe Berlusconi un patto con Cosa Nostra stringe un patto con Cosa Nostra. Io dico Berlusconi oggi ha querelato Di Maio per le questioni del cara di Mineo. Io non so e non amo le querele, ma uno che mi dice che nel 1974 stringo un patto con Cosa Nostra mi chiedo, spiegatemi perché non sono in galera? Oppure è stata prescritta e quella Cosa Nostra era quella delle stragi e quindi è prescrivibile quella Cosa Nostra? Io me lo chiedo. Insomma, uno può scrivere che io ho stretto un patto, beh, d'altronde Travaglio anche di me ha scritto delle cose talmente incredibili. Io non l'ho querelato perché non voglio perdere tempo, tanto perdo comunque, ma devo dire che tutto è possibile farlo. Il foglio oggi azzecca un tema molto divertente. Il principio della impresentabilità, che poi è quello che il fatto rivolge a molti candidati del centro-sinistra e centro-destra, perché l'impresentibilità in Italia non esiste, esiste l'incandidabilità, dice giustamente il foglio, esiste l'ineleggibilità, è nota giustamente il foglio, ma l'incandidabilità è una specie di categoria morale inventata dal Movimento 5 Stelle e da Travaglio che si può attribuire a tutti gli altri ma non a se stessi. Quindi sono impresentabili i candidati del centro-destra e del centro-sinistra, indagati, mentre quelli che governano il Movimento 5 Stelle, che hanno anch'essi delle indagini in corso, magari assurde come quella di Bertolaso, non sono impresentabili. Ma siccome non lo stabilisce la legge, chi lo stabilisce? L'arbitrarietà di Travaglio e di Rousseau e del Movimento 5 Stelle. Lo capite? Non dobbiamo cadere in questa trappola. Era impresentabile quando si candidò, provò a candidarsi a Roma, Bertolaso. Dopo 8 anni lo hanno assolto. L'impresentabilità è lo strumento orwelliano della neolingua per cui noi uccidiamo il nostro nemico. Essere sessisti, essere impresentabili, essere omofobi. Insomma, il mondo di Trudeau, il cretino che guida il Canada. Nel frattempo, mentre il mondo di Trudeau, il cretino che guida il Canada, si occupa di mankind, di people kind e noi pensiamo che sia impresentabile quello che ha un problema ma che non è stato ancora condannato, nel frattempo cosa succede? Oggi è fantastico, l'Alto Adige, un giornale locale, scusatemi, 20 ragazzini, nel momento in cui non nascono giovani, altro grande titolo del giovane, sono stati a Terlano, sono in coma etilico, perché hanno fatto il carnevale? 20, 20, 20 ragazzini! Allora, invece di fare le manifestazioni, parlare delle scuole e le minchiate, ma se 20 ragazzini vanno in coma etilico, e altra notizia di oggi, i ragazzini si bombavano per andare in bicicletta, 18-20 anni, forse invece di fare tanti problemi sull'emergenza, fascismo, il neofascismo, occupiamoci anche un po' di problemi un filo più seri, va bene? 20 ragazzini in coma etilico? Io non lo so, io la trovo una cosa incredibile, i genitori incredibili, la scuola incredibile, cioè in quel luogo, ma come si può pensare che 20, cioè una specie di epidemia? Sì, certo, il problema è il malato di Tetamo che i genitori sono stati condannati, sono stati indagati perché non hanno vaccinato il figlio, bene, ma questi sono 20 bambini non vaccinati dal coma etilico, che non c'è un vaccino ovviamente, vaccinati mentalmente. Vabbè, avete capito quello che dico, condividete se vi piace questa zuppa, questa sera 105 Matrix su Radio 105, ciao!